Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando sono stati investiti da un auto. Il grave incidente è avvenuto giovedì mattina a Vigevano. Poco prima delle 10, una coppia, marito e moglie, è stata colpita da un'auto alla rotonda tra via Buozzi, via Mazzini e via Leonardo da Vinci. La dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia locale. Secondo le prime testimonianze, la coppia stava attraversando sulle strisce da via Buozzi verso lo slargo all'inizio di via Le Mazzini. Subito dopo aver oltrepassato il salvagente posto al centro della carreggiata, i due sarebbero stati sorpresi dall'arrivo di una Volvo nera proveniente dalla stazione. L'auto avrebbe colpito violentemente l'uomo di 79 anni che sarebbe stato sbalzato a terra, travolgendo a sua volta la moglie di 74 anni. La signora non appare in gravi condizioni. Il primo referto medico per lei parla di un trauma a una gamba. Molto più gravi le condizioni dell'uomo, che ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso a San Matteo di Pavia con un elisoccorso atterrato all'Istituto Negrone. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica. L'incrocio dove si è verificato l'incidente è stato a lungo un punto critico della viabilità a ridosso del centro di Vigevano. La situazione pareva essere migliorata quando, un paio di anni fa, era stata costruita la rotonda. Alcuni residenti della zona però lamentano il fatto che troppe auto viaggino ad alta velocità e non rispettino la precedenza ai pedoni in prossimità delle strisce pedonali. Questa mattina, mentre venivano ultimate le operazioni di soccorso, abbiamo raccolto la testimonianza di un signore che è stato investito proprio nello stesso punto alcuni mesi fa, per fortuna senza gravi conseguenze. Lei è stato investito qui quando? Sei mesi fa. Come è andata? La stessa dinamica? No, sono arrivato qua, stavo andando di là, quella signora non mi vede, mi mette sotto. Mi ha detto che non mi ha visto. Come non mi ha visto? Ci ho detto, signora mia, sono un metro, un metro e sessant'otto e non mi vede. Meno male che c'erano tutti quelli del bar che hanno visto, tutto quanto, e poi mi hanno portato in ospedale, però non è che mi sono fatto male un cranché. Però, meno male, pericoloso. Questa è una zona molto pericolosa e loro lo sanno, il sindaco lo sa. Ci sono tante zone di Vigievo che sono pericolose, strade che ci devono andare 30 all'ora. Grazie. 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 Grazie.